Parole d'amore da Rosanna, che riceve locuzioni da Dio Padre. 28 aprile 2013. Il mio cuore regala i battiti al respiro dell'universo. Desidero danzare con la gioia dei vostri cuori, che mi hanno ritrovato. Io sono creatore della vostra gioia sopita nei vostri cuori, sepolta dai vostri affanni, dalle preoccupazioni, che vi schiacciano perché non vi affidate completamente a me. Questo mi ferisce perché vi fate soggiogare dalle paure, dalla ragione e i suoi fantasmi, ai quali vi aggrappate e non mi cedete la vostra volontà, così che io la possa elevare, promuovere ai divini ranghi, che risolvono e mutano inglobando i vostri problemi e li indirizzano sulla via della soluzione. I miei figli, che hanno compreso il segreto della vita cristiana, spargono la loro sicurezza, che non è la sicurezza dell'avversario, che bleffa, ma è la sicurezza della giusta via intrapresa, densa di frutti di pace, di sapienza, di luce e conoscenza, di amore. L'operazione è difficoltosa e richiede oltre ad una buona dose di affidamento anche un quotidiano irroramento di linfa, di amore da contatto con me, di colloquio intimo con me, di unione, di parole, che danno forza, sia che me le offriate, sia che le riceviate sotto forma di impulsi, di luci, di carezze vibrazionali nel vostro intimo, di certezze di essere mie, amati e coccolati ogni volta, che mi chiamate all'appuntamento nel nostro solito posto. La vostra stanza interna anima, di cui già ho ampiamente chiarito e che voi ormai dovreste conoscere o almeno intuire. In questa stanza voi potete trovare molti pulsanti da scoprire che vi possono connettere alla mia realtà profonda, infinita, sconosciuta, ma pronta a donarsi per voi in piccole fiammelle, che perforano cuore e intelletto per aprirvi alla mia conoscenza. Tutti potete collegarvi e scoprire così che cosa vi dice la mia voce, in questo tempo, che per alcuni versi sembra essersi quasi fermato, per altri sembra correre, e per altri ancora sembra un catalogo di orrori e di degrado. Sembra che il cielo stia trattenendo il fiato, sembra che l'onnipotente vada ad aprire i propri granai, e che debba continuare ad ampliarli prima del raccolto finale. Sembra che a fronte di orrori si producano miracoli di luce, sembra che molti cuori comprendano finalmente l'amore, che placa le invidie, le soprafazioni, e comincino a comprendere che il potere e il denaro sono crudeli esattori, e molti si guardano in giro attoniti senza ben comprendere che cosa stia succedendo, anche se la realtà prima è che è in atto una purificazione dolorosa delle anime con il pianeta. In questi tempi di profonda incertezza, di pericolo, solamente i più ciechi non si avvedono della luce, che chiama ad assicurarsi per la vita eterna, quella futura, che richiede solo una polizza non burocratica, che non impegne danaro, ma solo un quotidiano atto di abbandono, che è liberazione dai vostri lacci, che vi tengono prigionieri. Il premio è la salvezza, la dimora celeste. Affrettatevi a stipulare questo contratto d'amore con me, sarete più sereni, sentirete la gioia, che vuole danzare con me, e la pace dei vincenti. Abbiate fiducia in me, solo io sono degno di fiducia, non continuate stoltamente a donarla a chi vi inganna. Donatemi un vostro soldino di fede ed avrete mille e mille palazzi dorati nel mio regno. Vi aspetto con ansia di padre.